Raccontare l'Italia che verrà partendo da sud. Questo è l'obiettivo di Smart Puglia. Investimenti, innovazioni e sviluppo. Tutte le opportunità di una regione dinamica. Un evento del Sole 24 Ore che a Milano ha riunito un panel di top players su scala internazionale per testimoniare l'attrattività presente e futura in ambito di Smart Economy della regione più a destra dello stivale. È un lavoro che viene da lontano, da una grande strategia avviata nel tempo a cui noi stiamo provando ad attuare anche un processo di connessione nuova ma soprattutto di un filo conduttore che rappresenta la Puglia in maniera differente così come l'avete illustrato esattamente. La crescita turistica e la conoscenza di alcuni settori, pilastri dell'economia penso al settore agroalimentare, a volte offuscano la grande e straordinaria crescita che c'è stata in tantissimi altri settori. Se uno analizza i dati vede come paradossalmente ci sono altri settori che sono ancora molto più trainanti e per questo noi vogliamo provare a raccontare un diverso Made in Puglia, un Made in Puglia che oggi ha una parola chiave che sarà fondamentale in tutta la nuova programmazione perché abbiamo dimostrato che siamo la prima regione italiana sulla capacità di spesa dei fondi europei e questo si racconta poco. Peraltro gli strumenti straordinari sono un pezzo della strategia. Gli strumenti di incentivazione sono sicuramente uno dei vantaggi competitivi che in questo momento la Puglia sta cercando di valorizzare piuttosto che applicare un approccio al contrario come è stato fatto in altre stagioni. Il primato nella produzione di energie da fonti rinnovabili, solare ed eolica per attivare una strategia di energie da fonti rinnovabili a chilometro zero che sia a sua volta trattore di investimenti non solo delle imprese autoctone ma di quelle che possono arrivare dall'esterno. Noi vogliamo creare connessioni rispetto a due nuovi pilastri che riteniamo strategici che sono la Green Economy e la Blue Economy che sono assolutamente correlate. Grazie. Grazie.